La proposta di modifiche tariffarie per i servizi comunali per l'anno 2020 è stata approvata dalla Giunta Barbieri. Le più significative e coerenti con le previsioni di entrata inserite nella proposta di bilancio 2020-2022 riguardano l'accesso alla ZTL volta a contrastare le emissioni di PM10 e il controllo del traffico nel centro storico. In particolare per i veicoli più inquinanti vi è la novità della nuova tariffa pomeridiana. Vale a dire che per chi entra dopo le 12.30 è prevista una tariffa agevolata da 1,5 a 2 euro per i veicoli a basso impatto ambientale, metano, GPL e ibridi, da 2,5 a 4 euro per i veicoli tradizionali, gasolio o benzina. Per quanto riguarda gli accessi giornalieri confermati in numero limitato per singolo veicolo al mese, la proposta della Giunta prevede da un lato la rimodulazione delle tariffe e dall'altro l'introduzione di una fascia oraria pomeridiana di ingresso dalle 12.30 alle 19 con un costo ridotto. Entrambe differenziate tra veicoli a basso impatto ambientale e quelli tradizionali. Per la prima categoria di veicoli la tariffa giornaliera sarà di 3 euro per i mezzi sotto le 3,5 tonnellate e di 4 euro per quelli fino a 7,5 tonnellate, mentre rimangono invariate per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate. Per la seconda invece il costo giornaliero sarà di 5 euro per i veicoli sotto le 3,5 tonnellate e di 8 euro per quelli fino a 7,5 tonnellate. Rimangono invariate da 10 a 50 euro le tariffe per i veicoli sopra le 7,5 tonnellate. Per i veicoli commerciali la novità più significativa riguarda la riduzione del costo dell'abbonamento annuale per i mezzi meno inquinanti. Per tutte le categorie si giunge ad una tabella che prevede una tariffa di 35 euro per i veicoli a maggior impatto ambientale sotto le 3,5 tonnellate o di 0 euro per i meno inquinanti. Per i permessi annuali la tariffa aggiornata è di 200 euro per i veicoli a maggior impatto ambientale di 70 euro per gli altri in calo rispetto agli anni passati.